Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla 1 in direzione Bologna, tra Calenzano e Barberino, chiuso il tratto a causa di un incidente avvenuto al chilometro 267. Nel tratto chiuso il traffico è bloccato con 11 chilometri di coda, uscita obbligatoria a Calenzano dove si è formato un chilometro di coda, sulla carreggiata opposta 3 chilometri di coda per Curiosi, sulla Fibili per lavori rallentamenti tra Empoli ed Empoli Ovest in direzione Mare, sulla Statale 67 Tosco Romagnola, chiuso per lavori il tratto tra l'incrocio Pontassieve, Statale 69 e l'incrocio per la Rufina in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze, buon viaggio!